E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett, novità incredibili da The Witcher 3. Con l'avvento del Red Kit, ovvero lo strumento fornitoci direttamente da CD Projekt, che permette di modificare radicalmente il gioco, sono emerse delle cose fighissime, dei nuovi contenuti tagliati. Visto che non c'erano i sottotitoli in italiano, il vostro caro Everett ha passato un bel po' di suo tempo libero a tradurre ed editare, in maniera tale che possiate usufruirne in completo relax. Per questo regà vi invito a mettere mi piace, commentare e iscrivervi e... vi lascio al video. Alla prossima! I'm the Hunt's warriors. Anericus... We need to lure it. Keep a lookout. I'll lay some fresh meat down his bait. Natural selection in action. I hate portals. Sì 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 Sì